C'è stato un incontro, se ne è parlato a lungo, abbiamo sentito la redazione del dottore Bologna che dirige la funzione pubblica, l'assessore Ghignici chiaramente ha fatto per venire dal suo punto di vista perché non c'era e ci siamo incaricati di adottare un provvedimento legislativo e provvedimenti amministrativi perché non si tratta di nuovi precari, sono precari da minimo 8 anni, qualcuno fino a 20, abbiamo stabilizzato gli altri colleghi loro del comparto regionale, non spendiamo un Euro in più perché è gente comunque che da 8 anni o da 20 anni percepisce un'indennità, vogliamo sottrarli al rischio della scadenza di una proroga, dopodiché se non venisse rinnovata la proroga questa gente che su questo stipendio magro, ha costruito da 20 anni, da 8 anni la sua prospettiva di vita per sé e per la propria famiglia, non c'è dubbio che deve avere una certezza che è nel loro diritto.